L'ex coordinatrice e l'ex titolare dell'asilo milanese Baby World Bicocca, imputati assieme ad altri due maestre per presunti maltrattamenti ai danni di alcuni bambini, hanno scelto di essere processati con rito abbreviato. Le accuse a vario titolo sono di maltrattamenti, lesioni, sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzione. La maestra, tra l'altro, in passato aveva già patteggiato la pena di due anni e nove mesi di reclusione e poi, nell'ambito dell'inchiesta del PM Gianfranco Gallo, sono emersi altri episodi a suo carico. Nel luglio del 2016 c'era stato l'intervento dei carabinieri che da settimane stavano monitorando le violenze nella struttura di Viale Sarca, tra cui urla, insulti, percosse, minacce, alimentazione forzata ai danni di bimbi di età compresa tra i dieci mesi e i due anni. In un avviso di chiusura indagini del maggio del 2017, poi, erano stati contestati nuovi fatti all'ex coordinatrice dopo il suo patteggiamento. In questa tranche è accusata, con il titolare, di aver maltrattato sei bambini. In particolare, una bimba sarebbe stata imboccata forzatamente e rinchiusa da sola al buio nella toilette. Le altre due maestre, una delle quali ha scelto l'abbreviato, invece, titolari di posizioni di garanzia nella loro veste di educatrici e che avrebbero avuto l'obbligo di impedire i maltrattamenti e i sequestri avvenuti alla loro presenza, non si attivavano per farlo e quindi concorrevano a causarli. Grazie. Grazie.